Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un altro caso che ha come filo conduttore internet. Ma non solo, oggi parliamo anche di bugie, bugie che possono diventare letali. Il protagonista di questa storia si chiama Robert Beast, è un ragazzo di 15 anni che, ahimè, non ha avuto un'infanzia felice. Robert non ha mai conosciuto la sua vera madre, è cresciuto con suo padre Lee, che ben presto si è risposato con un'altra donna quando Robert era ancora piccolo. La sua matrigna è la seconda moglie di Lee, Robert l'ha conosciuta per la prima volta quando aveva nove mesi. Quindi dai nove mesi di Robert ai suoi quattro anni, lei le ha fatto praticamente da madre. Però anche questo secondo matrimonio di Lee fallisce, anche perché a quanto pare la moglie andava con degli amanti. E per non lasciare a casa da solo Robert, lo portava con lei. Lee a questo punto perde la testa, Robert non avrebbe mai dovuto vedere la donna che considerava sua madre tradire suo padre. Così Lee aggredisce l'amante di sua moglie e Robert si ritrova da solo perché suo padre finisce in prigione. Con suo padre dietro le sbarre, Robert viene mandato a vivere dai suoi nonni, in un ranch che dista circa 25 chilometri da Ellensburg. Una città che si trova nello stato di Washington. È il 2007. Quando suo padre viene rilasciato, Robert continua comunque a stare dai suoi nonni, nel ranch che lui considera come una prigione perché non può stare in città con i suoi amici. Robert è isolato nel ranch dei nonni, si sente solo, quindi inizia ad usare il computer per chattare con dei ragazzi e per conoscere nuovi amici. Robert il computer lo usa anche per giocare a dei giochi. E una sera, proprio mentre Lee che sta giocando a un videogioco, riceve un messaggio da una certa Ice Princess che gli scrive Ho proprio bisogno di qualcuno che mi insegni a volare. La ragazza ovviamente si riferisce al gioco e quindi Robert le risponde Ma certo, seguimi, non c'è problema. Ice Princess vive a 3000 chilometri di distanza da Ellensburg, a Gahanna, un sobborgo di Columbus in Ohio. Il suo vero nome è Grace Dillman e sostiene di avere 16 anni, ossia un anno in più di Robert, che ne ha ancora 15. I due iniziano a sentirsi e pare vadano subito molto d'accordo. Robert ha ancora 15 anni, quindi ancora non pensa a trovare l'amore. Si sente semplicemente solo e quindi cerca qualcuno con cui parlare, niente di più. Grace e Robert iniziano a sentirsi davvero tutti i giorni, si scambiano gli indirizzi e-mail e iniziano a condividere i dettagli delle loro vite. Grace gli parla della sua famiglia, ha un fratello e una sorella più grandi, la sua famiglia è ricca e sta studiando a casa. Sembra insomma che Grace stia vivendo la vita perfetta, ma confida a Robert che talvolta si sente come se nessuno la capisca. Robert si apre, le dice che si sente isolato e solo, non c'è nessuno con cui parlare al ranch dei suoi nonni, l'unica persona con cui ha davvero contatto è Grace. Robert va anche ovviamente a scuola, ma non ha amici lì, non riesce a legare con nessuno. Quindi finisce per starsene in disparte, per lui è più semplice. Col tempo, messaggio dopo messaggio, i sentimenti di Grace e Robert si fanno sempre più profondi e intensi. Grace infatti gli scrive questo messaggio. Sei l'unica persona che mi fa sentire vera. Con tutti gli altri devo fingere di essere ciò che non sono. Perfetta. La mia famiglia pretende che io sia perfetta, in tutto e per tutto. All'inizio per Robert Grace era solo un diversivo, qualcuno con cui parlare per uscire dalla noia quotidiana che lo attanagliava. Non aveva di certo programmato di innamorarsi di lei. Il punto è che succede. Robert col tempo, sentendo Grace solo tramite email e messaggi, si innamora perdutamente di lei. A quanto pare, Grace è l'unica cosa bella nella vita di Robert. Tutto il resto sta andando sempre peggio. Lee, suo padre, tiene molto all'istruzione di Robert e va a trovarlo spesso nel ranch dei suoi nonni. Col tempo Lee si rende conto che suo figlio passa sempre più tempo davanti al computer e sempre meno tempo sui libri. Lee non sa che Robert sta avendo una relazione online con Grace. Sta sveglio fino a tardi per sentire lei. L'unica preoccupazione di Lee è il rendimento scolastico di suo figlio. Quindi lo riprende, Lee dice di essere meno svogliato, più concentrato, di studiare di più, di non mollare. Lee ha lavorato tutta la vita in un cantiere e ha amato il suo lavoro fino alla fine. Il suo stipendio era buono, ma con gli anni ne è uscito distrutto e pieno di acciacchi. Non vuole che suo figlio finisca per fare il suo stesso lavoro, ci tiene tanto. Vorrebbe vederlo frequentare il college, studiare, proprio per riuscire ad ottenere un lavoro migliore del suo. Robert, tutto sommato, è un buon studente, va bene a scuola, l'unico problema è che non socializza con i suoi compagni. Però, in effetti, da quando sente Grace, il suo rendimento a scuola è leggermente peggiorato. Chiariamo, ora non è che prenda solo brutti voti, ma le sue medie sono decisamente calate. Robert ovviamente si sfoga con Grace, le dice che suo padre lo soffoca, che non lo lascia stare, che lo vorrebbe sempre sui libri e basta. Grace dà man forte a Robert e gli dice che suo padre non vive neanche con lui, ma lo va solo a trovare, e quindi dovrebbe essere meno severo e più gentile con lui, il suo unico figlio. Passa un anno, Robert quindi arriva ad avere 16 anni e continua a sentire Grace, che ora di anni ne dovrebbe avere 17. Arriva però una sera in cui Grace scrive un messaggio a Robert e gli scrive Robert, io ti ho mentito, non sono quello che ti ho detto di essere, io non ho 16 anni. Robert quando legge quel messaggio si preoccupa e non poco, quindi le chiede quale sia la sua vera età. E Grace gli scrive che lei in realtà ha 13 anni. Robert a questo punto le risponde, hai 13 anni? Vuol dire che avevi 12 anni quando ci siamo conosciuti? Questo cosa fa di me? Robert scopre che Grace gli ha mentito sulla sua età, ed è davvero deluso ed arrabbiato. Si è fidato di nuovo di un'altra donna e alla fine anche lei gli ha mentito. C'è da dire che Robert, a parte sua nonna, non ha mezza figura femminile positiva nella sua vita. Anzi, ahimè, non ha un bel rapporto con le ragazze, principalmente a causa delle mogli di suo padre. Sua madre biologica l'ha abbandonato. Un'altra donna è entrata a far parte della sua vita quando aveva solo 9 mesi. Peccato che lo portasse con sé da bambino quando doveva incontrare i suoi amanti. Robert non ha una buona opinione delle donne che hanno fatto parte della sua vita. Così si chiude, allontana Grace, non le scrive più. Grace ovviamente non si arrende, lo tempesta di messaggi. E infatti Grace gli scrive Robert, ti prego non andare via. Questo non cambia i sentimenti che provo per te. Ti prego non buttare via tutto questo per niente. Robert però non cede. Non risponde più a Grace. Il tempo passa, arriviamo ad agosto 2008, quando Robert scopre di avere una grande passione. E per ben un anno si mette a riparare dei camion con suo nonno. Le abilità di Robert da meccanico emergono grazie a un progetto scolastico. Dovevano trovare qualcosa da smontare e riparare. Robert però non vuole smontare qualcosa di semplice. No. Lui guarda i camion di suo padre così imponenti con molta curiosità. E vorrebbe proprio provare a sistemarne uno al posto di suo padre. Quando Robert va da suo padre lì a chiedergli se per cortesia gli può prestare un camion, è convinto che la risposta sarebbe stata un secco. No. Ma in realtà lì è entusiasto, gli piace l'idea che il figlio si appassione ai motori. Robert si dimostra molto interessato. Quando lì gli permette di lavorare su un camion fa letteralmente i salti di gioia. Robert quindi prende quel camion, gli toglie il motore, riesce a ripararlo e scopre che quel lavoro gli dà una grande soddisfazione. Nel frattempo Robert prova anche a frequentare una ragazza della zona di nome Christy. Ma la storia non va bene e si conclude dopo appena un paio di mesi. Inoltre Robert è di nuovo in contatto con Grace, nonostante la sua bugia sull'età. Robert probabilmente non voleva sentire Grace, ma la verità è che lei non si è mai arresa. Gli ha sempre scritto anche mentre lui usciva con Christy, l'altra ragazza. Robert è riuscito a resistere fino a quando la sua storia con Christy non è andata male. Purtroppo in un momento di debolezza risponde ad uno dei tanti messaggi di Grace e non riesce più a smettere di sentirla. Grace però è furba perché inizialmente racconta a Robert di essere innamorata di un altro ragazzo. Gli dice che ormai l'ha dimenticato, l'ha superata, insomma non vuole tornare con lui. E quindi Robert ci crede. Le chiede come va quindi con il ragazzo che le piace, ma Grace è sempre molto vaga, troppo vaga. Robert all'inizio non fa molte domande, non vuole impicciarsi né far credere a Grace in qualche modo che lui sia geloso. Ma dopo un po' di tempo Robert dice a Grace che vuole sapere di più del suo innamorato, è solo curioso in realtà. Robert vorrebbe sapere se i due hanno già avuto un primo appuntamento oppure se si sono già scambiati un bacio. Quindi le chiede esplicitamente di parlargli di lui. Grace gli risponde Beh, gli piacciono le macchine, gli piaccio io ed è stanco del posto in cui vive. Robert legge quel messaggio e inizia ad avere giusto qualche dubbio. Dall'altro lato però, si rende conto che la situazione lo intriga. Quindi Robert decide di fare a Grace tre domande. La prima domanda che le fa è Gli parli praticamente tutti i giorni? Grace risponde Sì Robert fa la seconda domanda a Grace, ossia Sai tutto di lui? E Grace di nuovo risponde Sì, così Robert riesce a trovare il coraggio di scrivere a Grace l'ultima domanda, ossia Non è che questo ragazzo sono io? E Grace risponde Eh sì Robert, io non ci posso fare niente, ti amo. Robert a questo punto, ahimè, non le dice che ha sbagliato, che c'è troppa differenza d'età, che non possono stare insieme. No, le scrive Anche io ti amo Grace, è così che i due ritornano insieme e continuano la loro relazione fatta solo di messaggi e email che va avanti per anni. Arriviamo alla primavera del 2010, Robert ha 18 anni e Grace ne ha 14. I due sono in contatto da più di due anni, ma sono fidanzati ufficialmente solo da un anno. I genitori di entrambi non sanno ancora niente della loro storia e i due ragazzi continuano a vivere la loro relazione a distanza. E Robert, ragazzi e ragazze, a questo punto diventa proprio un romanticone. Perché scrive a Grace Tu mi hai sempre accettato, con i miei pregi e i miei difetti. Forse più difetti che pregi. Mi dispiace così tanto se a volte ti rispondo male. Non è giusto, ma ne rendo conto e devi perdonarmi. Ci sono delle cose che non potremo mai dire a nessuno e questo, Grace, mi uccide. Io ti amo. Insomma, direi che Robert è bello innamorato e vuole incontrare Grace. Non intende lasciare quella relazione così com'è. Non ha sentito per tutto quel tempo quella ragazza inutilmente. Robert vuole uscire con lei. Vuole avere un'opportunità. Un poveriggio, Robert, che si è appena diplomato al liceo, trova in effetti un modo che potrebbe avvicinarli senza che la sua famiglia lo sappia. Robert vuole andare alla facoltà di ingegneria meccanica in Ohio, lo stato in cui vive Grace. Fa quindi delle ricerche e trova il college ideale, l'Ohio Technical o Ohio Tech. Un college che si trova a Cleveland, a due ore di macchina da Ghana, proprio dove vive Grace. Robert mostra online il programma di quel college a suo padre Lee, che in effetti nota che quello è il college di ingegneria meccanica più valido che abbia mai visto. Lee pensa che una volta uscito di Lee, per Robert, non sarebbe stato complicato trovare un buon lavoro. Di conseguenza si convince. Intanto Robert racconta il suo piano a Grace e alla fine dell'estate si mette in macchina proprio per affrontare un viaggio di 3.000 chilometri, dallo stato di Washington a Cleveland, in Ohio. Robert va al college, inizia ad ambientarsi, e nell'ottobre del 2010 inizia a pianificare un incontro con Grace, che ora ha 15 anni, sì, è cresciuta, ma è comunque minorenne. La ragazza dice a Robert che ha deciso di mentire ai suoi genitori. Non dire la verità su di lui. Non puoi dire ai suoi genitori che lei e Robert si sono conosciuti online quando lei aveva 12 anni, anche perché sono fortemente religiosi, non approverebbero la situazione, anche se io credo che nessun genitore approverebbe una situazione del genere. Quindi Grace decide di dire ai suoi che Robert è un ragazzo che ha conosciuto in vacanza, quando sono partiti tutti insieme in crociera proprio quell'estate. Il punto è questo. Grace ha dei genitori molto severi, studiava perennemente a casa, quindi di base anche lei si sentiva un po' sola. E anche lei era isolata dai suoi coetanei per la maggior parte del tempo. Essendo genitore di devoti cristiani, Grace crede che incontrare Robert in chiesa sia la soluzione migliore. E mentre Robert si reca da Grace è davvero molto emozionato. Arrivato in chiesa a Gahanna, Robert ha un colpo di fortuna, perché vide proprio il padre di Grace, Alan, davanti alla porta della chiesa. Robert va da lui tranquillo, si presenta, è vestito elegante, con gioco e cravate ed è sicuro che nulla potrà andare storto. Ma il padre di Grace lo blocca immediatamente, non approva quella storia e non vuole che sua figlia esca con Robert perché pensa che sia troppo grande. Nonostante Robert provi a chiedere all'uomo di avere un'opportunità, una possibilità con sua figlia, Alan, il padre di Grace, è irremovibile e Robert non può fare altro che andarsene. Dopo questo episodio, in effetti, il padre di Grace, Alan, segnala alla polizia che la figlia stava avendo una relazione online con qualcuno. Ma dopo aver analizzato le informazioni, la polizia ha deciso che non c'era nulla su cui indagare. Da questo momento, per un anno, Robert decide di dar retta ad Alan, il padre di Grace. Non si fa più sentire e lei, d'altro canto, fa lo stesso. Non si iscrivono più, interrompono i loro contatti. Robert si concentra solo sullo studio in quell'anno perché non ha scelto quell'università per capriccio. Mi interessa molto ciò che studia, quindi si impegna al massimo su quello, senza distrazioni. Però una sera del mese di ottobre del 2011, Robert riceve nuovamente un messaggio da Ice Princess. Grace ha deciso di mettersi in contatto con lui, sfidando chiaramente suo padre, che le ha impedito categoricamente di continuare a sentire Robert. E in effetti Robert inizialmente non è convinto, perché il padre di Grace, Alan, l'anno prima ha messo di mezzo la polizia. Fortunatamente, lui e Grace non si sono mai detti nulla di grave o compromettente da metterlo o metterli nei guai. Grace però questa volta si è fatta furba e ha preso delle precauzioni per non essere scoperta. In pratica la ragazza scrive a Robert con i telefonini dei suoi amici. E quando i genitori di Grace non sono a casa, parlano via Skype. Molto presto Grace e Robert rincominciano ad accettare regolarmente. E Robert si innamora nuovamente di Grace, ma probabilmente non ha mai smesso di amarla, è quello il punto. I due però hanno una consapevolezza. Vedersi di persona è impossibile senza l'approvazione dei genitori di Grace. Robert a questo punto si mette l'anima in pace e pensa che dovranno aspettare che lei cresca. Però una sera Grace rivela un segreto a Robert davvero terribile. Grace dice a Robert che suo padre fa violenza su di lei e sua madre le mette le mani addosso, la picchia. Robert è sconvolto da questa situazione in quanto qualche anno prima sua nonna Bernice gli ha detto di essere stata vittima di violenze quando era piccola. Quindi Robert in un certo senso capisce cosa voglia dire Grace perché sua nonna gli ha raccontato la sua esperienza e comunque ne hanno sempre parlato apertamente. E Robert a questo punto va fuori di testa perché vorrebbe proteggere la ragazza che ama Grace ma non può farlo. Non può chiamare la polizia perché sa che i genitori di Grace sono molto potenti e rispettabili. In pratica Robert pensa che nessuno possa prendere per vera la storia di Grace. Robert quindi le propone di scappare via con lui ma Grace gli dice che i suoi genitori l'avrebbero sicuramente ritrovata e la punizione per lei sarebbe stata terribile. La peggiore. Grace non ha mai cercato seriamente di scappare. Non sa dove andare, non sa che scusa usare con i suoi genitori per poter uscire. Grace inoltre sa che se fosse sparita i suoi genitori sicuramente per prima cosa avrebbero cercato Robert. Nei mesi successivi Grace sembra sempre più arrabbiata. Inizia a covare il rancore, un odio profondo verso i suoi genitori. Sente che la tengono in gabbia. Sente di non poter far niente di ciò che desidera. È delusa e sa che c'è un unico modo per liberarsi da quelle catene, da quella prigione. Far fuori i suoi genitori. Grace lo dice a Robert come se nulla fosse. Robert concorda con lei. Le dice che come al solito farà del suo meglio per poterla aiutare. Robert, così, scriva Grace. Le loro azioni giustificano le punizioni che gli infliggerò. Mi sporcherò le mani per te. Spero solo che tu sia felice dopo. Robert è molto protettivo nei confronti di Grace. Non vuole coinvolgerla nell'omicidio perché sa che una cosa del genere le avrebbe rovinato la vita. Si sarebbe sentita cattiva e non l'avrebbe mai superata davvero. Così, Robert vuole proteggerla da tutto questo. Il punto è che Robert contemporaneamente non vuole prendere atto del fatto che stanno facendo quella cosa insieme e che entrambi sarebbero stati coinvolti. Grace, in ogni caso, è insistente. Dipinge un quadro tetro di violenze che riceve quotidianamente. Robert, quindi, scoppia. Non ce la fa più. Non riesce più a sopportare l'idea che qualcuno possa fare del male all'amore della sua vita. Nei mesi precedenti, a giugno 2012, Grace e Robert mettono a punto il loro piano. Decidono una data e un orario. Le prime ore del mattino del 13 giugno. Il giorno prima di realizzare il loro macabro piano, Grace ricontrolla la lista delle cose da fare che si era assegnata per portare a termine questo piano. E controlla che tutto sia a posto, che tutto vada bene. I due ragazzi programmano tutto con estrema attenzione. E il piano consiste in questo. Grace dovrebbe staccare l'allarme ad un orario ben preciso e lasciare la porta del garage aperta in modo che Robert possa entrare in casa da solo. Pensate che Grace controlla anche il pavimento del garage e lo pulisce dalla polvere per evitare che Robert lasci qualsiasi tipo di impronte. Grace, inoltre, fornisce a Robert tutti i dettagli della casa. Fa un video col suo iPad e glielo manda per mostrargli come sono disposti i mobili. Come è fatta a casa sua. Insomma, il fine è quello di aiutarlo a muoversi più velocemente. Arrivato al giorno prima del piano, però Robert inizia a realizzare cosa avrebbe dovuto fare realmente. Sono finite le chiacchiere. E di conseguenza inizia a preoccuparsi. Dice a Grace che forse il loro piano non è così infallibile. Le dice che probabilmente li avrebbero beccati subito. Ma la ragazza lo tranquillizza e quindi Robert si fida. Inoltre, Grace continua a ricordare a Robert che quello è l'unico modo che hanno per stare insieme. Non ce ne sono altri. Ormai, sembra che Grace sia l'unica cosa importante per Robert. La ama davvero tanto e farebbe qualsiasi cosa per lei. La notte del 12 giugno, verso mezzanotte, Robert si mette in viaggio da Cleveland per aggiungere casa di Grace, più precisamente a Gahanna. Arriva a destinazione verso le due del mattino e cerca un posto poco sospetto dove lasciare la macchina. La parcheggia circa 400 metri da casa di Grace. Robert quindi lascia la macchina a bordo strada, cammina tra gli alberi e si infila nel giardino di Grace. Quando Robert arriva alla casa, tutto procede secondo i piani, l'allarme è disattivato e la porta del garage è aperta. Robert a questo punto decide di togliersi le scarpe prima di entrare in casa per evitare di fare rumore mentre cammina. Robert quindi entra in casa, cammina per tutto l'ingresso cercando di non fare rumore e di non sbattere contro nulla considerando che è al buio totale. Sale a secondo piano e finalmente arriva in camera di Grace. Dopo cinque anni dall'inizio della loro relazione, i due ragazzi si abbracciano per la prima volta. Poi, parlando un po', Robert le dice che non è sicuro di volerlo fare. Ma Grace anche in questo caso riesce a convincerlo. Dice che sta facendo la cosa giusta, la sta salvando dai suoi genitori che la maltrattano ogni singolo giorno da anni. Così Robert va verso la camera dei genitori di Grace con un coltellino. Il suo piano è quello di tagliare la gola prima al padre di Grace, Alan, visto che sua madre Grace sicuramente avrebbe fatto meno resistenza. Così Robert entra in camera dei genitori di Grace. Robert a quel punto è lì che guarda il padre di Grace, ma non riesce proprio a colpire. Esce quindi dalla stanza e torna nuovamente in camera di Grace. Robert dice a Grace, Ascolta, proprio io non ce l'ho fatta. Grace, dobbiamo trovare un altro modo perché io così non ci riesco. Grace guarda Robert e gli dice subito, No, Robert, non è così semplice. Non c'è un altro modo. Per favore Robert, devi aiutarmi. Io non ce la faccio più. Voglio stare con te e non voglio più stare con loro. Mi obbligano a fare cose che non voglio. Mio padre mi obbliga a fare cose che non voglio più che altro. Mentre mia madre finge di non sapere nulla e mi maltratta anche. Per favore Robert, tu sei la mia unica opportunità per essere felice. Se vogliamo stare insieme, Robert, lo devi fare. Devi trovare il coraggio. Devi farlo. Grace alla fine lo bacia. Lo bacia per la prima volta per convincerlo a far fuori i suoi genitori. Robert, nonostante quel bacio, è comunque preoccupato. Non dimostra di aver cambiato idea. Quindi Grace lo guarda e gli dice, Ma perché non mi vuoi aiutare? Tu non mi vuoi? Non mi ami? Io ti amo, Robert. E voglio stare con te. È così che Robert si convince definitivamente. Risponde a Grace, Ma certo che ti amo, tesoro. Ok, facciamolo. Però mi serve una cosa più grande. Robert intende dire che gli serve un'arma più grande. Quindi scendono entrambi in cucina per prendere un coltello. Robert afferra anche una coperta per tentare di contenere il sangue che avrebbero perso i genitori di Grace. Poi risalgono insieme le scale ed entrano entrambi nella stanza dei genitori di Grace. Grace rimane a guardare in un angolo, mentre Robert, stringendo coltello e coperta, si avvicina di nuovo ad Alan, il padre di Grace, che però sente la coperta che Robert tiene in mano sfiorargli la gamba. È indormiveglia. Alan quindi spalanca gli occhi e inizia una coltazione, in quanto il padre di Grace si alza dal letto per cercare di difendersi. Mette subito Robert al muro, si spintonano e questo, per Robert, rappresenta il punto di non ritorno. Lo pensa anche, o lo faccio ora o mai più. Robert, essendo alquanto giovane, alla fine riesce ad atterrare Alan. Preva a colpirlo, ma riesce a prenderlo solo una volta all'altezza della spalla. A parte quello, Alan riesce a schivare i colpi alquanto goffi di Robert, che è chiaro, non ha mai fatto nulla del genere, quindi non sa esattamente cosa fare, come muoversi. Robert a questo punto continua a colpire, ma colpisce a vuoto con quel coltello, quindi frustrato, urla al padre di Grace. Perché l'hai fatto? Alan a questo punto lo blocca e gli chiede, no no no, aspetta, fatto cosa? Robert continua a un ralli in faccia, perché l'hai fatto violenza? Perché hai osato farle questo? Alan a questo punto risponde, oh mio Dio, ma cosa stai dicendo? Non ho mai fatto nulla del genere, ti ha mentito! Robert a questo punto lascia Alan. Il coltello gli scivola dalle mani, si alza e si gira. Guarda Grace, è sempre stata lì, in quella stanza, ad assistere in silenzio. Non ha spiccicato una sola parola, quindi Robert le chiede, Ha detto la verità a tuo padre? Grace annuisce in silenzio e dice, sì Robert, ti ho manipolato, mi dispiace Robert. Robert a questo punto si rende conto di ciò che ha fatto. Si è introdotto in casa di una famiglia, ha preso un coltello dalla loro cucina e ha colpito un uomo mentre dormiva in casa sua. Ed ora Robert sembra prendere coscienza dell'enorme casino che ha fatto. Il ragazzo va nel panico e urla immediatamente alla moglie di Alan, Grace. Chiama il 911, adesso si sbrighi! La moglie di Alan, Grace, chiama il 911 e spiega tutto. Spiega la situazione e le condizioni del marito e perché il marito stia in quelle condizioni. Di conseguenza parla anche delle bugie di sua figlia. In questo momento Robert è caduto il mondo addosso perché già aveva problemi seri a fidarsi delle donne. Ma con Grace, con Grace la cosa è ben diversa perché quella ragazza è riuscita a fregarlo per ben due volte. Robert a questo punto cerca di fermare l'emoragia ad Alan. Prova a salvagli la vita sperando che i soccorsi arrivino in tempo. E nel frattempo Grace è ancora lì, nella stanza, in piedi e non fa niente. Entro pochi minuti arrivano i poliziotti sul posto e trovano Robert arrendevole. Si lascia arrestare senza opporre alcuna resistenza. I detecutivi a questo punto vedono Grace e le chiedono se per caso Robert sia suo ragazzo. Lei alza lo sguardo e risponde impassibile. No, non proprio. I poliziotti in ogni caso, basandosi sulla chiamata del 911 fatta da sua madre, sanno che anche lei è coinvolta. Di conseguenza la portano fuori da casa e arrestano anche lei. Una volta arrivato in centrale, Robert viene lasciato col sergente Ernest Chung. Che ovviamente gli chiede di raccontare la sua versione, perché è arrivata a quel punto, perché ha fatto quel terribile gesto. Così Robert decide di collaborare. E ricostruisce con la polizia passo dopo passo tutta la sua storia. Spiega al sergente le sue motivazioni. Dice che lui credeva davvero a Grace. Non pensava che mentisse su una cosa del genere, ma soprattutto lui voleva solo proteggerla da un qualcosa che aveva già sentito ampliamente nominare da sua nonna. Perché lei stessa l'aveva subito. Questo per lui è un grave colpo. Il fatto che già nella sua vita c'era una donna a cui teneva e a cui era successa la stessa cosa, è stata la scintilla che poi ha fatto esplodere l'intero incendio. Ernest Chung dopo aver sentito Robert va anche da Grace e ben presto si rende conto che interrogare Grace è una storia totalmente diversa. Si rifiuta di raccontare i fatti, ma fa commenti senza filologico che lasciano il sergente alquanto basito e preoccupato. Ad esempio Grace chiede dell'acqua che le viene portata dentro un bicchiere di carta. Ne beve un sorso e per almeno un minuto e mezzo parla di quanto sia buona quell'acqua. Sembra completamente assente, le sue reazioni non sono affatto normali. E questa cosa lascia tutti, sergente e detective compresi, sconcertati. Per di più, con Grace che non collabora, è impossibile per la polizia verificare l'avversione dei fatti di Robert. Hanno la dichiarazione dei fatti di Robert, un accoltelamento, un coltello, una vittima, un sospettato. Ma ancora la polizia non conosce il movente perché Grace non parla, non spiccica mezza parola. Per capire quale sia il reale movente della ragazza, i detective analizzano i computer di Grace e Robert. E in effetti il loro scambio di messaggi online è la parte più importante dell'indagine del dipartimento di polizia di Gahanna. Perché a questo punto i detective e il sergente hanno potuto leggere per filo e per segno il piano dei due ragazzi. E hanno capito che nonostante fosse ben dettagliato e ben pensato, aveva comunque molti difetti. Perché? Perché né Robert né Grace sono criminali, Grace poi ancora meno. Quindi i ragazzi si sono focalizzati su cose superficiali. Non lasciare impronte di scarpe nel garage, l'orario, Robert indossava dei guanti. Quindi aveva anche pensato alle impronte digitali. E in effetti tutti questi elementi si possono trovare di solito proprio nei film e nelle serie tv. E infatti i due fidanzatini hanno giusto trascurato una cosina. Lo scambio di email tra di loro che è durato per anni. Mentre gli agenti catalogano la corrispondenza di Grace e Robert via email, il sergente Chung torna da Robert ed esamina a fondo la loro storia. Con varie email che i due ragazzi si sono scambiate negli anni alla mano. La prima reazione del sergente, sentendo la storia di Robert che per di più contestualizza con alcune email, è semplicemente Oh mio dio, poveraccio, è stato ingannato. La verità è una. Robert è così innamorato di Grace che per lei farebbe qualsiasi cosa. E l'ha quasi fatto. La corrispondenza online dei ragazzi rivela che Grace ha sempre usato uno pseudonimo, ossia Alexandria Steel. Robert invece usava lo pseudonimo Elementar Evil, però quello è più nickname che uno pseudonimo, non si è inventato un nome o un cognome di sana pianta. Il fatto che i due si sono conosciuti online ha permesso ad entrambi di creare dei personaggi di loro stessi. Poi questi due personaggi hanno iniziato una relazione, ma vivevano in un mondo a parte che non aveva regole o divieti. Si sono sentiti solo virtualmente per cinque anni, avevano per forza la necessità di creare un loro mondo. Però Grace sembra rappresentare qualche problema in più di Robert. Grace, secondo il sergente Chung, ha scelto di usare uno pseudonimo non tanto per coprire le sue tracce. Dentro di lei Grace sente che quello che usa virtualmente è il suo vero nome. È come se si senta perennemente un'altra persona. Grace deve essere perfetta, i suoi genitori non ammettono sbagli da lei. Quindi Grace ha seri problemi ad accettare la realtà, perché i suoi genitori le hanno sempre imposto di essere chi. In realtà non è mai stata. Ma c'è ancora dell'altro che sfugge ai detective e al sergente. Non capiscono se è vero che Grace, da piccola, ha subito violenza. Quella è una storia vera? È una storia totalmente inventata? Gli inquirenti non lo capiscono. E anche Grace, dal canto suo, non ha mai chiarito se quella storia fosse vera o meno. Grazie anche al primo soccorso di Robert, Alan Dillman fortunatamente si salva. Dopo essersi dichiarato colpevole, Robert viene condannato a otto anni di carcere, per tentato omicidio, tentato omicidio aggravato e aggressione. Grace Dillman, la ragazza che Robert voleva proteggere, viene condannata a due anni di libertà vigilata sotto supervisione medica, ma ottiene successivamente una sospensione condizionale della pena. Gli atti riguardanti la salute mentale di Grace in realtà sono riservati. E il vero movente per cui voleva uccidere i suoi genitori resta sconosciuto. Ragazzi, ho finito di raccontarvi questo caso, che fortunatamente per una volta non finisce in tragedia, perché fortunatamente il padre di Grace si è salvato. Però questo caso l'ho trovato interessante per tutti gli altri elementi, ossia come i due ragazzi si sono conosciuti. Diciamo che per certi versi, questa storia mi ha ricardato la storia di Gypsy Rose Blanchard quando inizia a sentire quel ragazzo che poi ucciderà effettivamente sua madre. Un pochettino questo caso, quella situazione me l'ha fatta ricordare. Voi conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto, nei commenti. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video, vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.